Passano abusivamente praticamente perché non si capisce se è chiuso. Il ponte è stato chiuso e per ora le persone passano abusivamente. Questo è il sottoponte pericolante chiuso. Per avere un'idea di dove siamo, là c'è il lesso di cicerato. Stai riprendendo? Il giro di stalle è proprio messo in una merda, ma è al massimo abbassato. Da un lato all'altro non dovremmo passare da quel lato del costone del fiume. Tutte le case qua sono combinate malissimo, non si è visto ancora nessuno neanche qua. Qua non c'è nessuno, qua non c'è nessuno, sono stati dimenticati. Tutte le case allagate. Questo signore ha anche i materassi fuori. come vedete dalle inquadrature, siamo praticamente sotto il ponte del fiume. Siamo al confine fra Barcellona e Milazzo, sotto il ponte, il cavalcavia che collega sul lungomare Barcellona e Milazzo. Questo è lo strarricamento praticamente del fiume Idrie. L'altro, quello a fianco all'Itrie. Come si chiama? Del Mela. Del Mela. Ci sono i volontari della protezione civica. Ci sono visti due volontari. Almeno qualcuno è venuto. Qui hanno ripulito perché sicuramente c'era l'inferno. Esatto, eccola la macchina che è passata. Ora andiamo a vedere sotto il ponte. Qui ci sono due dell'esercito che fanno il controllo e non avessero a fare passare mai. Comunque è stato arrivato all'altro fiume. Ah, quello lì Idrie, no? Sì, l'altro. Questo comunque scendeva, ha rotto là pure le cose di cemento. Scendeva a manetta. Questa è una macchina sommersa da questo cespuglio di erba. Qua? Sì, sì. C'è una macchina là sotto. Ah, perché là si arrivava con la macchina? Era una controstrada, si passava. Quella sotto, questa qua. Ah, qua ancora ce n'è. Il fiume è in sicurezza per là, quindi. Però le macchine passano, come vediamo da questa inquadratura, in questo momento. Abusivamente in questo momento. I piloni sono al limite, si preoccupano specialmente per i piloni centrali. Questo qua dove c'è il murales? Sì, e l'altro è questo qua. E quello non riesco da qua. Vabbè, perché sono quelli proprio bordo fiume.